buongiorno sempre da Matteo Barberi for meeting oggi in quest da come utilizzare statistiche sintetiche di for meeting al meglio entriamo subito nella dashboard rato admin di for meeting vado a condividere il nostro schermo ed eccoci qua tra le varie tab del menu di navigazione di for meeting troviamo questa tab che ci permette di ottenere sulla piattaforma dove voi inserite tutti i vostri corsi dei dati potete filtrare ovviamente per periodo per avere una visione di come sta funzionando il vostro ente formativo o le tutti gli eventi convegni seminari che avete caricato in for meeting perché sono molto utili le statistiche nel mondo del marketing vengono chiamate kpi cioè indicatori tra delle chiavi indicatori delle performance cerchiamo di semplificare sempre di più la vita cioè quegli indicatori quei dati ok perché ricordiamo che siamo ancora in italia non siamo solo nel mondo anglosassone questi indicatori ci possono permettere di prendere che cosa delle decisioni cioè i dati servono per prendere decisioni nello specifico preso questo ultimo uno degli ultimi clienti entrati nella famiglia for meeting e però ho preso proprio il suo esempio e ringrazio alma quantum che tra l'altro invito tutti voi a chi vuole tra l'altro è attivo proprio nella scuola di naturopatia proprio in questo momento sono aperte le iscrizioni e vi invito a conoscere alma quantum chi desidera diventare ovviamente in questo mondo e conoscerlo al meglio lo trovate in un colpo tutti quelli che sono utenti unici caricati in piattaforma per tutti i corsi gli accessi totali degli utenti che hanno fatto perché posso caricare mille persone ma se se ne collegano solo cinque in questo caso parliamo di oggi ok perché ho filtrato per oggi poi tutti i documenti che sono stati visualizzati o scaricati il numero di video che vengono visualizzati o scaricati tutti quelli che sono qui noi dividiamo tra video caricati e video contenuti extra sarebbero i video in questo caso incorporati per esempio da youtube o da video quanti hanno scaricato hanno superato i test se vengono caricati test l'esercitazione ste consegnate eventualmente quanti moduli di customer sono stati compilati link aperti quelli esterni messaggi in chat ovviamente quanti messaggi in chat abbiamo ricevuto richieste di supporto da parte dell'utente che manda a voi quanti corsi attivi sono cinque come vedete corsi attivi se fossero attivi non attivi sarebbe ovviamente il totale diverso rispetto agli attivi questi dati ci permettono oltre che avete anche dati di accesso su quale diciamo sistema operativo no in questo caso windows ovviamente rappresenta la percentuale totale di accessi quello cosa avviene che io ho in qualche modo capire da un punto di vista lavorativi quante persone accedono che può essere molto molto interessante gli accessi rispetto agli iscritti per quello che stanno lavorando le persone e sulla base di quei dati posso dire ma lo stanno scaricando quei video vado a vedere anche i video per quello posso fare un un'analisi di questi dati potete anche addirittura nel mondo per chi è certificato iso potrebbero diventare quelli che vengono chiamati indicatori del del miglioramento continuo previsto da ancora in maniera molto più approfondita nella 2015 io potrei mettere un obiettivo cioè quanti accedono alla piattaforma perché per me è un dato ok cioè su mille iscritti io vorrei avere quell'obiettivo di utilizzo perché l'utilizzo significa fedelizzazione può essere un obiettivo di miglioramento di qualità direi proprio di sì perché se la piattaforma ho mille iscritti e gli accessi sono molto alti e tra l'altro sono costanti nell'arco per esempio del mese o dell'anno io ho un dato che che posso utilizzare se il parametro diciamo è conseguenziale sostanzialmente un ottimo ritorno dell'investimento su formiti nello specifico ma nel vostro mondo business può essere il discorso o anche le esercitazioni scaricate possa essere un dato da inserire nei nostri obiettivi perché la piattaforma ricordo non è di erogazione e basta è gestione erogazione tracciamento e promozione e proprio sulla base di questi pilastri quando parlo di analisi tracciamento non è solo sul singolo utente ma sull'utilizzo della piattaforma senza questi dati diventa difficile fare un business con la formazione online oggi cosa abbiamo visto abbiamo visto sostanzialmente come si va a utilizzare le statistiche sintetiche di formiti come se fosse una fotografia in quell'istante per prendere delle decisioni comunicare eventualmente a titolare o all'amministratore o a chi gestisce progetti di formazione e prendere decisioni chiare sulla base di numeri per adesso ringrazio tutti quello che hanno visto questo video che interessato può prendere una colla con me per scoprire il mondo infinito di formiting facciamo una colla di un quarto d'ora e vediamo il vostro progetto e se possiamo veramente aiutarvi nel vostro business della formazione degli eventi e dei convegni grazie a voi e buona e buona giornata